Che mi fa con questo qua? Premessa, poi secondo punto, conoscendo Formiconi si è ingurato tutta la Lombardia, rubando, sono pure preoccupato, sotto la nocce è pericoloso. Eh, guarda adesso che battutaccia, Giovanni da Ferrara, vai Giovanni da Ferrara, dimmi Giovanni. Ciao Giuseppe, ti abbraccio forte. Dimmi, dimmi. Senti, volevo rivolgermi a Gottardo questa sera. Dimmi, dimmi, vai, dimmi. Volevo dire a Gottardo che ormai lui c'è una certa caccia, cioè lui ormai ha 50 anni, si è via verso la fine. A 50 anni non ce l'ha, a 50 anni. No, a 43. Fare il buffone a quell'età lì risulta davvero ridicolo, hai capito? A 50 anni non avrà davvero un minimo di sobrietà. Parla per esperienza personale, cioè mi sembra che lei se ne intenda del fare il buffone, no? Parlo per cosa ho sentito le tue stronzate, perché dire mi mangi un gatto, hai capito? No, l'ho mangiato, una volta, l'ho mangiato, due anni fa. È una cazzata, è una cazzata. Eh, posso aver mangiato un gatto a casa di amici? E che cazzo, cioè chiamo Giovanni da Ferrara la prossima volta che devo mangiare l'orso, per esempio. Non ho capito, Giovanni lo mangio. Questo è ridicolo. Giovanni, scusa, non ho capito, se uno dice che ha mangiato un gatto, ha mangiato un gatto, punto e basta. Non lo sapevo neanche che fosse gatto finché non ho finito la cena. È una cosa tragica, è una cosa tragica. Mi hanno fatto uno scherzo. Parenzo è stato perfetto e me l'ha fatto anche rivalutare. Lui giustamente ha detto che è una sciocchezza, ma oltre a questo, è una sparata talmente forte che fa capire come, Gontardo, sei un fake. Come sono un fake? Ma scusa, scusa, fermi tutti. Perché ho mangiato il gatto. Giovanni, fermi tutti. Allora, se uno dice che una volta ha mangiato il gatto... Ma tu ci credi a... Temo sia vero. Sì, può essere. Adesso dice che l'ha scoperto dopo. Sì, mi hanno portato la coda dopo sghignazzando questi stronzi dei miei amici. Ma tu, scusa un attimo, ma tu credi davvero che dicendo che queste puttanate a 50 anni tu possa fare colpo sui radioascoltatori? Fermo, fermo lì, fermo lì. Ho capito benissimo la tua critica. Fermi tu. Questo qua ha addirittura chiamato. Fermi. Più colpo di così. Oh! Tutto Italia, statemi bene. Numero uno, statemi bene.